Allora, benvenuti a questa puntata, insomma, della quarta incontro che abbiamo tenuto a Torino University a ottobre 2013, abbiamo visto più o meno un riepilogo di quello che è il processo di texturing quindi abbiamo visto che è dato un oggetto, per esempio un cubo, è obbligatorio, cioè, insomma, bisogna aprire la UV Map quindi aprire la UV Image Editor e a questo punto su questo UV Image Editor occorre andare in Edit Mode avendo tutti i vertici selezionati, in realtà quelli che interessa su cui fare la UV Map e a questo punto abbiamo detto facciamo una UV Map, un wrap in realtà, facciamo per esempio questo che è il Light Map adesso poi lo spieghiamo un attimino meglio, le sei facce di questo cubo vengono disposte sulla destra l'ideale sarebbe quella di fare in modo tale che queste facce, insomma, si dispongano su tutta la superficie e poi si mette un'immagine che verrà mappata, quindi apriamo un'immagine su cui mappare il tutto per esempio, possiamo prenderne, beh, anche questa e questa immagine verrà poi appiccicata sull'oggetto però ci sono alcuni punti da fare perché questo appiccicamento sia veramente fatto che è quello di aggiungere il materiale quindi andiamo da qua e aggiungiamo un dunque no, questo qui è il Word, non è il materiale giusto, andiamo qua il materiale nel caso del cubo c'è già, se no si può creare uno nuovo e al materiale si può, anzi si deve, diciamo, aggiungere la texture corrispondente quindi si mette una texture di tipo image or movie, che è questa e poi la si seleziona dicendo che è applicata attraverso una UV e con la UV mappa precedente facendo in questo modo abbiamo la possibilità di vedere direttamente quello che si vedrebbe ma il display, come vedete, non ce la fa ancora vedere per vederlo possiamo aprire la parte di display e qui scegliamo GLSL e Texture Solid e finalmente abbiamo, effettivamente vedete che selezionando una faccia quindi selezioniamo questa faccia qua ad esempio vedete che in questa faccia qui abbiamo esattamente questo vaso di fiori che viene associato a questo oggetto quindi abbiamo visto come la tecnica di assegnazione quindi tutto il workflow che impone la modellazione la generazione della UV unwrap la generazione del materiale la generazione della texture e l'associazione tramite UV della texture sulla UV mappa appena costruita ora, questo è un riepilogo, ovviamente vediamo ora come invece le vari tipi di UV unwrap possibili che è stato l'oggetto della lezione scorsa abbiamo visto che questo era stato un unwrap di tipo light map ma cominciamo a prendere in considerazione alcuni altri unwrap possibili e per essere generici invece di partire da un cubo proviamo a partire da un oggetto un pochino più complesso che potrebbe essere ad esempio il toro quindi cosa facciamo? da qui andiamo in object mode cancelliamo il nostro cubo e al suo posto ci mettiamo un bellissimo toro questo e magari, giusto per chiarirsi meglio invece di fare 48 per 12 la sequenza che genera una quantità molto alta di facce perché sarebbe 48 segmenti per 12 facciamo 10 e 10 così abbiamo soltanto vedete che abbiamo una quantità molto più limitata di facce sono un centinaio di facce però almeno ci capiamo un attimino meglio quindi questo toro se andiamo in edit mode con tutti i vertici selezionati e poi facciamo l'unwrap partiamo dall'unwrap più banale l'unwrap più banale è quello che fa il reset allora il reset in realtà cosa fa? prende ogni singola faccia e la dispone a completare tutta la nostra immagine quindi in questo caso vedete che la nostra immagine viene ripetuta su ogni singola immagine questo è un effetto diciamo che non tutti sanno che si può fare magari possiamo mettersi un'altra immagine leggermente più chiara, più semplice per esempio vediamo se ce ne abbiamo una prendiamo l'eurino questo qua ok, se mettiamo l'eurino vedete che è molto chiaro che l'immagine viene applicata a sinistra e a destra e manca questo modo di texturizzare a volte può essere utile ma sicuramente non è quello più diffuso perché di solito si usa non tanto duplicare l'immagine su tutte le facce ma si usa il metodo che permette di assegnare parte delle facce alla nostra immagine quindi proviamo a vedere altri metodi quindi siamo in edit mode è sempre il nostro oggetto proviamo a fare a usare quindi edit mode selezioniamo tutte le facce u, reset e comunque reset diciamo nella condizione originaria e proviamo a fare lo smart UV project ora lo smart UV project assumiamo le caratteristiche di default comunque è un sistema che permette di spezzare l'oggetto nelle sue componenti quindi fa dei tagli però vedete che non per tutti i componenti fa delle cose intelligenti quindi in realtà dovrebbe riuscire a capire lui automaticamente come tagliare l'oggetto perché io non ve l'ho ancora spiegato ma in realtà una delle parti essenziali per fare l'unwrap sarebbe quello di tagliare l'oggetto cioè tagliare e mettere gli dettagli in modo tale che lungo questi tagli lui generi praticamente dei delle apra diciamo tutte le facce in modo tale da ottenere un unwrap accettabile in questo caso ad esempio un unwrap accettabile potrebbero essere ottenuti facendo selezionando vediamo selezione di punti selezioniamo questo vedete l'interno e lo tagliamo lì in modo tale che si apra lungo tutto lungo questo questo taglio e poi facciamo ctrl e e facciamo un mark sim e questo praticamente marca quel sim come taglio poi ad esempio tagliamo anche lungo questo in modo tale da aprirlo e anche qua facciamo ctrl e mark sim quindi a questo punto le parti su cui sono state marcate i tagli compaiono in una specie di rosso lo vediamo forse meglio vediamo togliendo il texture solid questo ok così vediamo la base vedete questa ok quindi qua se selezioniamo tutto e facciamo l'unwrap quello standard l'unwrap standard è quello che segue i tagli che noi abbiamo andato quindi facciamo l'unwrap e vedete che in questo modo lui cerca di fare un unwrap che è abbastanza diciamo sistematico anche se vedremo proprio nel caso del toro che ci sono degli unwrap automatici che riescono a far in modo tale che il toro sia proprio spezzato cioè sia proprio adagiato completamente sull'immagine qui per esempio ho visto che per i tori un unwrap molto intelligente è il light map pack se facciamo il light map pack otteniamo un unwrap perfetto direi questo qua cioè praticamente tutte le facce vengono messe in maniera ortogonale in modo da coprire l'intera immagine questo in realtà tra l'altro ecco una spiegazione perché si chiama light map perché è usata proprio per fare le texture i backing le texture di illuminazione illuminazione in cui si mettono delle ombre ombreggiature eccetera in cui è importante che si sfronte al massimo tutta la superficie disponibile della texture quindi ecco light map mappa di illuminazione fa questo effetto anche se nel momento in cui vediamo questa immagine come viene messa vediamo che viene messa in un modo che non è proprio il modo più utile quindi in realtà probabilmente anche se il principio è questo cioè di prendere tutti questo qui non è ancora l'unpacking cioè l'unwrapping ideale perché vedete che in realtà lui spezza tutte le cose ma non sono contigue quindi se noi selezioniamo questo vedete che ci da questo pezzo ma il pezzo vicino che è per esempio questo ce lo da sì relativamente vicino ma non allineato lungo i bordi e quindi in realtà non c'è molta relazione o comunque non è una relazione usabile allora proviamo invece a usare ancora un altro unwrap che può essere quello ecco questo qui follow active quads invece cerca di mantenere la topologia cioè praticamente data avendo selezionato almeno un quadrato lui cerca di seguire nei due versi quindi in direzione in su e in giù verticale è orizzontale cerca di spezzettare tutto tagliare tutti in modo tale che sia realistico quindi proviamo a fare follow active quads qui di solito dà maggiori risultati l'even che dà dei quadrati degli rettangoli diciamo uguali vedete che facendo in questo modo effettivamente ho ottenuto un unwrap che è più utile nel senso che la moneta anche se in questo caso non è che sia proprio il massimo dell'utilità però viene messa in maniera contigua vedete che viene messa in maniera contigua quindi giusta ma l'ideale qui è di mettere questo in modo tale che coincida con il nostro quindi facciamo s lo restringiamo lo mettiamo un pochino più in su qui dobbiamo fare un pochino di manovaranza qui possiamo imporre che il constrain to image bound ok in modo tale che se faccio sx non sia più largo s y non sia più largo di questo e direi che così potrebbe già essere ah no però qui vedete che non ha coperto quindi mettiamo più o meno un po' più a sinistra sx ok e poi eventualmente comunque questo qui diciamo è l'euro che viene disposto per vederlo un po' meglio potremmo anche sempre in edit fare s z vedete che lo ampliamo e vedete che si capisce meglio la procedura che ha seguito che è quella di applicare la texture e metterla praticamente in un modo che corrisponda a a a a questa parte qua vabbè adesso questa qui è solo l'essenza dunque ci sono altre tipologie di unwrap l'unwrap qui se lo facciamo allora abbiamo visto quindi light map che abbiamo visto che è interessante per fare luci in cui non sia importante la topologia follow active quads è a volte molto interessante smart wiproject fa quello che può e proviamo a vederlo nel senso che qui l'importante è qui l'angolo nel senso che più è alto l'angolo e più isole lui cerca di creare vediamo un po' il concetto di isole vedete che lui ha preso e ha generato un tot di isole le isole come si fanno basta andare con L qua e vedete che girando e premendo L premendo L si è selezionata l'isole sono state selezionate un tot di isole ognuna di queste isole diciamo è una parte della texturizzazione l'unica cosa un po' buonina che ha fatto è stata la texturizzazione di queste parti qua perché per il resto è venuta un po' male però si può controllare quante isole fa nel senso che facendo Smart UV Project l'angolo limite se lo abbassiamo cerca di limitare la quantità di isole quindi ad esempio se da 65 che è il default gli mettiamo 45 ecco vedete in teoria dovrebbe diminuirla premiamo di nuovo a fare un 20 però vedete che è secondo della forma insomma quindi in realtà non è che può fare miracoli però sicuramente se aumentiamo aumentano le isole quindi qui possiamo mettere ad esempio 100 no 90 e qui in teoria lui ha generato più isole però a me non è che mi salti questo unwrap a me non è che non trovare qualche workflow particolare che ci consente di gestirlo però una cosa che è interessante è vedere tutti questi unwrap io me ne sono accorto un po' tardi diciamo solo recentemente hanno delle opzioni sulla sinistra che controllano il modo in cui gli unwrap funzionano per capire meglio questi questi parametri andiamo invece consideriamo invece che il toro che comunque non è banale prendiamo una sfera quindi shift A e prendiamo una UV sphere e proviamo a vedere se riusciamo a texturizzare insomma a dare una UV unwrap decente in maniera sempre un po' automatica quindi cosa facciamo andiamo in edit mode facciamo U e beh proviamo a vedere no in questo caso la cosa interessante è che noi abbiamo già una modalità di unwrap automatico della sfera che è questa che però vedete che non è il massimo della vita perché fa un po' di stranezze insomma non è bellissimo questo perché in realtà probabilmente lo sta facendo con la prospettiva attuale cioè vedendolo praticamente un po' dall'alto e viene un po' deformato allora qui il metodo per avere un unwrap decente è quello di andare qua e di selezionare align to object e vedete che l'allineamento all'oggetto offre un qualche cosa di un pochino più accettabile nel senso che praticamente quasi tutta la sfera è stata squadrata l'unica cosa che non è riuscito a squadrare sono stati i poli e i poli sono un problema quindi lì la texturizzazione sicuramente non può essere fatta in questo modo però il 99% della superficie della sfera è stata texturizzata in modo accettabile e qui entra il discorso che dicevamo prima come si fa a texturizzare un oggetto in cui alcune parti non sono diciamo facilmente unwrappabili beh si fa in due pezzi cioè praticamente cosa succede? quindi questa parte centrale ci va bene no? quello che vogliamo adesso fare è selezionare quindi andiamo qua facciamo A e selezioniamo tutti i punti che ci piacciono quindi questi ok e cerchiamo di selezionare anzi in realtà andiamo magari nella selezione di facce ci sono già selezioni di facce se facciamo CTRL I facciamo così selezioniamo questi punti e poi selezioniamo questi punti ok e in teoria vediamo un po' se riusciamo a ok direi che la cosa migliore è magari selezionare le facce cioè di queste qua critiche quelle attorno ai poli quindi facciamo A e qui magari andiamo con la modalità C che ci permette di selezionare le facce passandogli sopra invio e quindi vedete che abbiamo selezionato tutte queste facce di sopra e poi andiamo nell'altra direzione e facciamo nello stesso modo anche la selezione della calotta di su e di giù e eventualmente cancelliamo le cose in più qua ok quindi abbiamo selezionato solo queste parti ecco queste parti qua che abbiamo selezionato possiamo invece proiettarle non secondo la sfera ma secondo la prospettiva cubica quindi possiamo fare U e usare Cube Projection vedete che usando la prospettiva cubica lui praticamente usa un cubo come riferimento qui lo proietta su una faccia del cubo sopra e sotto e quindi noi queste qui sono le due calotte che possiamo a questo punto facendo S ingrandirle e farle assumere praticamente il vedete che in questo modo vedete che qui sopra la calotta abbiamo possiamo mostrare un'immagine particolare se volessimo no? poi possiamo ampliarla quindi fare una proiezione diversa come vogliamo però il concetto è che possiamo fare un unwrap anche a pezzi e quindi aggiungiamo un unwrap in un modo o nell'altro un altro tipo di unwrap che a volte si usa per i cilindri possiamo vedere anche qua quindi facciamo Object Mode ok cancelliamo aggiungiamo un cilindro questo qua e poi facciamo anche qua in Edit Mode unwrap cylinder projection anche qua l'ideale è di mettere align to object vedete in questo modo abbiamo un allineamento accettabile ah poi una cosa che avevo fatto notare in lezione era un po' come queste immagini si allineavano facendo la texturizzazione allora per capire l'allineamento delle immagini magari conviene no facciamo in Object Mode partiamo da un cubo ad esempio una cosa semplice Mesh Cubo prendiamo il cubo e facciamo un proviamo a farci un unwrap sopra unwrap e proviamo a metterci ad esempio appunto il follow up to quads che abbiamo visto che ci dà dei risultati interessanti anzi in questo caso ci ha proprio dato lo sviluppo canonico del cubo con le quattro facce ecco però questo qui è proprio il fatto che sta fuori che mi interessa perché se qua noi ci mettiamo l'immagine sopra vedete che l'immagine viene ripetuta in tutte e sei le facce perché che si faccia pur essendo fuori è come se l'immagine venisse ripetuta infinite volte fuori come facciamo noi a fare in modo tale che essere sicuri che invece l'immagine fuori non venga ripetuta e quindi vederla solo sull'immagine selezionata allora è abbastanza semplice basta andare nelle proprietà dell'immagine quindi selezioniamo il nostro cubo quindi questo è Edit Mode anzi andiamo Object Mode questo vedete che il materiale in questo caso non c'è gliene assegniamo uno materiale 001 nella immagine che gli assegniamo quindi nuova immagine l'immagine Image or Movie qui abbiamo visto UV e gli abbiamo messo la UV Map ok però c'è anche un'altra cosa notevole che è quella che vediamo qua Image Mapping in cui vedete che c'è scritto Repeat quindi mettendo Repeat anziché Repeat mettendo Clip ecco in realtà dunque non è Clip facciamola Clip Cube ah si dobbiamo scegliere l'immagine scusate ecco questa è l'immagine se l'immagine la mettiamo Clip vedete che viene tagliata l'estremità adesso qua sembra che ci sia perché la visualizzazione in display non è perfetta per capire effettivamente se c'è o non c'è la modo più effettivo è quello di usare il Rendered il Rendered vedete che ci fa vedere non ci fa vedere perché mancano le luci perché Rendered vuole le luci in questo caso possiamo anche provare ad andare qua e mettere una luce ambientale che dovrebbe esserci ah no se non è qua la troviamo qua in cui possiamo abilitare un ambientale inclusion environment light ok l'environment light praticamente dà una luce diffusa dell'ambiente e da qui si capisce che in realtà solo una delle facce è stata è stata texturizzata perché è questo perché selezioniamo di nuovo lui andiamo nel materiale e nella sua texture perché qui abbiamo detto clipped se invece di clipped gli avessimo detto invece il default che è repeat vedete che tutte le facce vengono texturizzate un'altra possibilità è extend che estende praticamente i colori finali vedete che fa questa estensione e quindi queste diciamo sono le principali cose che si possono utilizzare nella texturizzazione nella texturizzazione automatica grazie a tutti grazie a tutti